Subito dopo la fine della guerra, nel 1946, l'aeronautica militare americana fornì a quella italiana un certo numero, circa 110 esemplari, del velivolo bimotore Lockheed P38 Lightning, di varie versioni, sia in quella armata, sia in quella da ricognizione fotografica. È curioso che il primo esemplare in assoluto che venne utilizzato dall'allora regia aeronautica venne utilizzato a seguito dell'atterraggio di fortuna e non si sa bene per quale motivo, fatto da un pilota americano in una base in Sartegna, dove l'aeroplano rimase praticamente intatto. Venne ovviamente subito catturato dalle truppe italiane, ridipinto ovviamente con i colori italiani e trasferito dall'allora comandante del nucleo sperimentale di Guidonia, colonnello Angelo Tondi, a Guidonia Montecelio per varie valutazioni. Lo stesso colonnello Tondi pensò bene di utilizzarlo anche per qualche missione operativa, per tentativo di dover abbattere qualche bombardiere americano che in quel periodo, durante le missioni di bombardamento, erano scortati in volo dal pilota del pilota. Secondo i resoconti dell'aeronautica militare americana, riuscì anche direttamente ad abbattere qualcuno con esito molto proficuo, ovviamente mimetizzando sull'altro pilota dello stesso tipo che immaginando di vedere un aeroplano similare non avevano alcune intenzioni di doverlo abbattere. Subito dopo l'8 settembre 1943 di questo pilota se ne persero le tracce, probabilmente venne requisito dai tedeschi e riportato in Germania. Durante la militanza del P38 nelle versioni sia da caccia che da ricognizione in aeronautica militare italiana, questo venne utilizzato fondamentalmente dai due gruppi che costituivano allora il terzo stormo dell'aeronautica militare italiana. Alcuni aeroplani vennero modificati dall'industria meccanica aeronautica meridionali da versione fotografica a versione armata e viceversa. Le stesse industrie meccanica aeronautica meridionali lo utilizzarono alcune cellule e le modificarono come biposto a doppio comando utilizzato alla scuola di terzo periodo di Lecce per addestramento e in questa guisa il velivolo terminò la sua carriera operativa verso la metà del 1955 appunto come velivolo addestramento presso la scuola di terzo periodo di Lecce prima di essere definitivamente radiato dai ranghi dell'aeronautica.